Siamo a Trento dopo il secondo giorno di riposo per la tappa Trento-Alpe-Segadiala, ormai siamo alle due battute finali del Giro E, ultime cinque tappe, un giro che sta andando benissimo, peccato solo per la tappa di Canazè in Cortina che abbiamo dovuto ridurre i minimi termini a causa delle condizioni atmosferiche impossibili per i nostri partecipanti, ma diciamo che fino adesso abbiamo vissuto un'esperienza veramente magnifica e contiamo di arrivare a Milano ancora con il sorriso e con un grande ricordo di questa avventura. Grazie a tutti. Grazie a tutti.